Lara Servetti è la Presidente del Consorzio del Porto Peschereggio che è partner del GAC, il Gruppo di Azione Costiera al Mare delle Alpi. Allora qui ci sono delle giornate in questo infopoint che coinvolgono anche i bambini. Cosa state facendo di bene? Allora noi stiamo organizzando, sono quattro giornate divulgative dove parliamo appunto di biologia marina, dove parliamo di pesca, dove parliamo di cucina. E quindi diciamo che abbiamo l'obiettivo di valorizzare quello che è il nostro patrimonio del mare, cercando di fare in modo che i bambini e gli adulti inizino a conoscere specie poco conosciute. E quindi che si inizi a chiedere nelle pescherie, negli esercizi commerciali, questi pesci che il nostro mare offre in grosse quantità ma che sono poco conosciuti. Una volta si chiamavano pesci poveri, noi preferiamo chiamarli pesci ritrovati perché comunque hanno un loro valore anche organolettico, hanno delle valenze importanti e quindi è importante che il consumatore ritrovi queste specie. E quindi chi miglia dei nostri pescatori poi li sentiremo ci potrà anche suggerire, però dobbiamo anche sapere che abbiamo una biodiversità importante. Barbara Nani è una biologa, è una biodiversità importante che caratterizza il nostro mare, che ancora si salva, lo possiamo dire? Sì, il mare si salva a partire dalle specie più grandi, qua siamo nel santuario dei cetacei, quindi dalle valenottere fino ai pesci più piccoli. Ognuno di questi ha un ruolo importante nella catena alimentare e proprio per questo ogni organismo del mare va, come dire, difeso e tutelato. Insegnare i bambini a conoscere il proprio territorio significa renderli più consapevoli e quindi più rispettosi nell'ambiente nel quale si muovono. I bambini spesso non mangiano il pesce, con questi laboratori cerchiamo di fargli conoscere il pesce vicino a casa, quindi a chilometro zero, soprattutto dare la possibilità anche di assaggiare dei pesci a chilometro zero che nulla hanno da invidiare ai pesci che arrivano da lontano e che insomma fanno tanta strada per arrivare fino a qui. Quindi l'obiettivo è insegnarli a mangiare per rispettare l'ambiente. Magari anche con qualche ricetta più accattivante, qualche suggerimento ai nostri pescatori si riesce ancora meglio, no? Infatti volevo ancora appunto dire che nella giornata di oggi daremo una degustazione ai grandi e piccini che è l'hamburger di palamita. Quindi la palamita che è un pesce pescato in queste nostre acque, l'hamburger, la formula dell'hamburger è proprio per cercare che questi bambini, che magari sono abituati a mangiare hamburger di carne, si abituino anche al pesce. Finalmente un panino sano e naturale che fa bene. Ecco, Paolo Terragno, normalmente Paolo i pescatori sono, come dire, si tramandano di padre in figlio, di generazione in generazione, questa tradizione e passione. Per te invece non ha funzionato così, è una passione che ti è nata dentro, è vero? Al nulla, sì. Mi sono innamorato di questo settore, del mare, sempre stato amante del mare, sono andato a pescare con dei pescatori storici di Oneglia, a 14 anni ho iniziato ad andare a pescare per divertirmi e poi piano piano mi è presa la passione, diciamo che non ce la faccia smettere. E alla fine ti sei comprato una barca? Eh sì, piano piano, con un po' di sudore. Con un po' di sudore però sono arrivati anche risultati perché pochi giorni fa hai fatto una pesca record, è vero? Ho preso un bel dentice di 8,5 kg, una volta ogni tanto capita. E quindi vuol dire che insomma qualcosa di buono dal nostro mare arriva? Sì, ogni tanto qualcosa di buono arriva, sì, sì, sì. Enrico Lupi, il presidente del GAC, il gruppo di azione costiera, il mare delle Alpi e questo mare delle Alpi avvicina anche gli studenti, avvicina i giovani, oltre al mondo della pesca si riesce a trasmettere, diciamo, quello che è il messaggio del nostro pesce, che è ancora forse da scoprire. Il nostro pesce ha un valore assoluto enorme, però quel che è importante è l'educazione alimentare. Il gruppo azione costiero ha nelle proprie misure, ha una progettualità dove insegniamo ai nostri ragazzi in età scolare, naturalmente in collaborazione con i presidi, con i docenti, a conoscere il pesce ritrovato, lo chiamiamo così, anche quello cosiddetto povero. E soprattutto facciamo un'azione molto importante con gli chef delle mese scolastiche, anche delle strutture d'accoglienza di altro tipo, quindi anche gli anziani. Credo che la cultura permetta di far penetrare nell'immaginario collettivo dei nostri cittadini, grandi e piccoli, quelli che sono le peculiarità del tesoro del nostro mare, che è il nostro pescato.